Rocca Sicura, un paese salvato da questa strada. È la Isernia Castel di Sangro. Sono trascorsi già 14 anni dalla realizzazione degli svincoli da e verso il paese. Da allora Isernia è più vicina, molto più vicina. I 32 tortuosi chilometri del percorso originario, grazie alla superstrada, diventati 16 e quasi tutti i rettilinei. Per i poco meno di 500 abitanti che vivono in quella località dell'Alto Molise molto più facile andare a lavorare fuori restando a vivere in paese e il paese. Il sindaco Fabio Milano non smette di benedire la strategica infrastruttura. Quando io ho iniziato questo cammino come amministratore la strada non era ancora aperta e c'era uno spopolamento fortissimo. Con l'apertura della strada che ha ridotto i tempi di percorrenza per Isernia, diciamo c'è stata una riduzione di questa tendenza allo spopolamento. Quindi sicuramente la rete viaria ci ha aiutato tantissimo. De natalità e poi pochi servizi, criticità che affliggono il piccolo centro così come tanti dell'entroterra molisano. Ma chi è rimasto lì per scelta o per necessità se ne fa una ragione. Beh, la vita a Rocca Sicuro è molto tranquilla. È un paese carino, piccolo, la gente è molto accogliente. Per le persone giovani come lei quali sono gli svantaggi legati alla vita in un posto periferico? Il fatto di doversi spostare sempre in auto o con mezzi per raggiungere la città. Com'è la vita qui a Rocca Sicura? Come si vive? Si vive bene, tranquilla. L'aria è buona e siamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene e quindi si vive bene, si vive tranquilla. Nella piazza, il cuore antico del paese, c'è il comune. Da lì, salendo qualche passo verso l'antica Rocca, uno spettacolo fuori dal comune. La catena delle Mainard de Meta e le vette del Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise. Questo è uno dei punti più alti del paese, più caratteristico, che rappresenta oggi diciamo il simbolo di Rocca Sicura. Come vedete è la torre dell'orologio, che è una delle torri rimaste appunto nel tempo. Stiamo cercando di dare maggiore forza diciamo alla nostra attrazione turistica, adesso con la realizzazione di un progetto che è stato finanziato dal Ministero, che è il Borgo che accoglie. Cioè trasformare l'intero centro storico in un'area pedonale, soprattutto con percorsi tematici e culturali che ricordano la storia del nostro paese. Rocca Sicura ha una lunga storia, addirittura qualche secolo fa contava circa 2000 abitanti, ora sono un po' di meno. Ha un futuro? Abbiamo un obbligo morale, un obbligo morale per tutto di non far morire il paese, di conservare le nostre tradizioni, anche perché la qualità della vita da queste parti è straordinaria, non ha paragone da nessun'altra parte del mondo, a mio modesto parere.